Oggi qui alla caserma dei Carabinieri per raccontare il tipo di aiuto fornito a Elena, aiuto senza il quale non le sarebbe stato possibile giungere in Svizzera, l'aiuto nell'accompagno, l'aiuto nell'interpretazione nelle ultime ore. Spiegherò ai Carabinieri che per le prossime persone che ce lo chiederanno, se sarà necessario, se saremmo nelle condizioni di farlo, aiuteremo anche loro. Sarà alla giustizia italiana stabilire se questi sono reati, se questo è un rischio di reiterazione dei reati. Cinque anni fa in questa stessa caserma dei Carabinieri ero andato a raccontare le modalità dell'aiuto a Fabiano Antoniani, a DJ Fabo. E da lì è partita un percorso giudiziario che ha portato fino alla legalizzazione dell'aiuto al suicidio in Italia da parte della Corte Costituzionale, ma solo per un certo tipo di malati. Non c'è stata nessuna risposta da parte del Parlamento, della politica. Siamo arrivati ora a questa situazione. Di fronte alla richiesta di Elena, che non aveva altre possibilità, se non quella di chiedere, di mettere a rischio la libertà per suo marito, per sua figlia, potevamo lasciarla con il suo problema, girare la testa dall'altra parte, oppure farci carico e assumerci la responsabilità di dare l'aiuto che cercava, che chiedeva, ovviamente, facendolo alla luce del sole. Sarà la giustizia italiana stabilire se c'è una discriminazione insopportabile, come noi riteniamo, con l'associazione Luca Coscioni, tra malati che comunque soffrono una sofferenza insopportabile all'interno di una patologia irreversibile, che sono lucidi e consapevoli, ma che non sono attaccati a una macchina o dipendenti da un trattamento sanitario, e i malati invece che lo sono. Tu sei disposto ad andare in carcere per prendere questa idea? L'obiettivo di questa iniziativa è la speranza che, se non lo hanno fatto le aule parlamentari, possano le aule di tribunale riconoscere un diritto fondamentale come questo. Certamente, sapendo qual è la legge oggi e quali sono le condizioni, se faccio quello che ho fatto è perché so che c'è anche la possibilità che questo diritto non sia riconosciuto e quindi sono pronto ad affrontare le conseguenze eventuali. Non credo che non ho trovato una persona, nemmeno tra coloro che sono ostili alla nostra proposta, che difenda nel merito la discriminazione su una persona che dipende da un trattamento sanitario, che potrebbe essere una dialisi, un trattamento vitale, e invece una persona malata terminale, per esempio di cancro, che uno abbia diritto e l'altro no. Non ho trovato una persona disposta a difendere questa discriminazione nel campo della politica, figuriamoci tra la gente. Grazie. A posto. Va bene. Bo, qualcosa sarà venuto buono. Sì, ragazzi.